Purtroppo l'arroganza umana ha fatto tappa anche nella città di Sciacca. Quella serie inquietante di minacce e denneggiamenti rivolti ad amministratori pubblici del nostro territorio, nei giorni scorsi hanno toccato violentemente anche Sciacca, un suo cittadino, un libero professionista. A tale proposito, noi di Babele nelle scorse settimane, precisamente nel mese di gennaio, con chiarezza avevamo definito questi uomini vili che si nascondono dietro l'anonimato, come uomini vigliacchi. Probabilmente in quella puntata non eravamo stati abbastanza chiari, abbastanza precisi e puntuali. Qualcuno ancora non aveva capito bene l'aggettivo vigliacco. Allora noi di Babele siamo qui a ribadire tutta la nostra indignazione, la nostra profonda indignazione nei confronti di queste persone che sono incivili e vili. Per fare una ulteriore precisazione, un'ulteriore chiarezza, questa volta utilizzeremo le parole di un grande scrittore siciliano, Leonardo Sciaccia, che in una sua opera, Il giorno della Civetta, che può essere definita una sorta di antropologia, di trattato antropologico-culturale sul fenomeno mafioso, così faceva parlare cinicamente un suo personaggio. L'umanità la divido in cinque categorie. Gli uomini veri, i mezzuomini, gli uomini icchi, i ruffiani e, in ultimo, i quaraquaqua. I quaraquaqua, sì, che dovrebbero vivere come le anatre, nelle pozzanghere, che la loro vita non ha più senso e più espressione di quelle delle anatre. Ecco, cari amici di Babele, facendo riferimento a queste categorie sciasciane, ciniche, assolutamente ciniche, noi pensiamo che quegli uomini violenti che commettono questi attentati non sono altri che uomini quaraquaqua, sì, non sono altro che uomini quaraquaqua. Noi eravamo stati abbastanza benevoli nel definirli solamente uomini di icchi. Ovvero, queste sono persone assimilabili per il loro comportamento irrazionale, violento e animalesco alla dimensione umana delle anatre, purtroppo facendo un torto alle anatre. Ma fatte queste considerazioni, noi concludiamo e ci spingiamo a fare un appello. Un appello a tutte quelle forze sane della società civile, alle istituzioni pubbliche, affinché mettano al centro della propria azione politica il tema della lotta alla mafia e agli interessi mafiosi, che sono i reali problemi che bloccano lo sviluppo culturale, sociale ed economico di questa nostra terra di Sicilia. E allora noi ribadiamo ancora una volta che questi uomini vili sono soprattutto i uomini quacquaraqua. Per adesso è tutto da Babbele, a voi buona vita, alla prossima puntata.